Ciao a tutti, sono Andrea dei Lacuna Coil e siamo a lezione con su RockerTV. Oggi vi volevo parlare di creare e comunicare, due aspetti molto importanti per una band. Vi faccio un esempio, l'ultima volta che abbiamo suonato a New York, io e Cristina siamo andati in giro per Manhattan, per tutte le radio, le televisioni, le riviste, i siti, a fare promozioni per la band. Abbiamo occupato un sacco di ore in giro, ci siamo stancati tantissimo, poi quando siamo tornati al locale abbiamo anche fatto il meet and greet con i fans e poi abbiamo suonato per quel paio d'ore a fine serata. Quindi questo per dire che tutti e due gli aspetti sono molto importanti. È importante sia lavorare sui fans e far crescere la propria fanbase e sia lavorare sulla propria musica, sulla propria arte. Quindi tutte e due le cose devono andare di pari in passo. Quando scrivete musica e spendete un tot di ore a fare prove, a esercitarvi, dovete pensare di spendere lo stesso tempo, di passare lo stesso tempo a lavorare, a costruire il nome della band, a contattare sempre più gente, a trovare modi per farvi conoscere. Quindi tutte e due le cose devono andare insieme. Ci vediamo a lezione con su RockerTV.